Buongiorno, buongiorno e bentornati qua. Nella nostra galassia sono assente da un pochino ma ragazzi non ci si può fare niente se non arrivano news e poi come al solito appena io scrivo nella community che non ci sono news e quindi sto aspettando letteralmente che esca qualcosa, chiaramente escono patch su patch istantaneamente il giorno stesso o il giorno dopo. Quindi rieccoci qua, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. E quindi oggi parliamo di Hunt Showdown e la patch 6.0. Che cosa è andata a inserire? Guardiamo un po' la patch note e dopo averla provata magari diamo anche qualche opinione in merito. Chiaramente è stato inserito il nuovo boss nella 6.0 quindi l'assassino, io sinceramente dopo tipo 6 partite e l'ho anche estratto non sono ancora riuscito a vederlo. Quindi non mi sono ancora spaventato per fortuna e dio anche perché mi fanno abbastanza schifo quegli insettoni di merda. Ma comunque assassino inserito, a quanto pare c'è solo disclusivamente la nuova mappa quindi in beta con l'assassino e la doppia taglia con il butcher, di conseguenza in questo attuale momento andare a giocare non è così tanto divertente anche perché comunque ci sono ancora parecchi bug sulla nuova mappa. Ma se volete provarlo è disponibilissimo, anzi è l'unica disponibilità oltre che alla mappa random. E' stato inserito anche il libro dei mostri che è un libro particolare che è il primo di una nuova serie di libri per la nostra biblioteca. Ovviamente questa è la lore del gioco che consente ai giocatori di rivelare di più sull'universo e su retroscena di Hunt. Chiaramente il libro include un nuovo sistema di sblocco quindi voi sbloccherete un mostro ogni volta che lo ucciderete e continuerete a sbloccare le sue varie caratteristiche, il suo diciamo passato e la sua storia in ogni volta che voi andrete ad uccidere un tot tipo di mostri e una tot quantità. Ottimo per la lore, ovviamente questo è un gioco con una lore veramente assurda. Critech è sempre stata ottima nel creare le lore, il problema è che ancora non è stato tradotto in italiano, cosa che a me personalmente dà fastidio. Avevo già iniziato a fare dei video in realtà per la lore ma li ho lasciati perdere perché sono veramente 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 assurdi. Nuovo equipaggiamento invece è stato inserito, sono stati inseriti ovviamente il LeMath Mark II che è un revolver carino, non tantissimo preciso però è un buon revolver, normalissimo revolver che però ha la particolarità di avere il bossolo che contiene, prendete un bossolo di fucile a pompa. Detto questo si deve premere X per cambiare da revolver a colpo da fucile a pompa, può essere utile soprattutto nelle situazioni in cui ci si ritrova a stretto contatto, quindi si spara con la pistola normale, se non si riesce a colpire si passa al pompa e si prova allo shot di pompa. Carino, niente male, può sparare fino a 9 colpi e se ne porta dietro 18 aggiuntivi. Parliamo invece del LeBelle, il Bolt Action Rifle. Sinceramente l'ho trovato bellissimo, io mi ci sono trovato subito benissimo, ha una stabilità che è fuori dalla norma, veramente fuori dalla norma, e in più ha un ottimo mirino, almeno per me che non sono un esperto di queste cose, quindi ottimo mirino e ha anche una buona cadenza di fuoco. Il problema sta nella ricarica, quando finite i colpi e dovete ricaricare, beh questo fucile ci mette una vita e mezzo, veramente è un colpo alla volta, fate tempo a farvi uccidere, tempo che ricaricate perché è veramente assurdo. Quindi state molto attenti quando lo usate e ricordatevi anche che ha pochissimi colpi, perché ha i suoi 9 colpi in canna più 5 proiettili, quindi niente di particolare. La Bomblance è stata inserita, anche questa, Bomblance che la trovo un'arma veramente oscena, l'ha usata Slade, come non lo vedete nel video, ma l'ha usata e l'ho vista usare da Slade, sciotta praticamente qualsiasi cosa gli si pari davanti con un solo colpo, massimo 2, il problema è che è un'arma palesemente da corpo a corpo, quindi se si sta un pochino sulla distanza o comunque sui tetti o in determinate zone in cui per avvicinarsi bisogna fare destra-sinistra, quindi la DAD classico, che però oramai è stato così nerfato che è più o meno inutile, la Bomblance risulta veramente oscena, anche perché non spara a distanza, i proiettili non uccidono istantaneamente i player e di conseguenza può essere un'arma carina da fare il cazzone, ma secondo me non tanto da portarsela dietro come arma principale. Le Trip Mine, che sono l'Alert e la Concertina, invece molto carine, la Concertina si sblocca a livello 86, mentre l'Alert a livello un pochino prima, sono molto comode soprattutto da mettere sotto le finestre e davanti alle porte, perché veramente avvertono tantissimo i player che ci passano sopra, la Concertina ovviamente è molto piccola, ma se messa su una porta, non quelle doppie, quelle singole, o su una finestra, praticamente ci ha ammazzate la gente, per il semplice fatto che rimangono incastrati senza neanche sapere il perché. Scatola di munizioni è l'ultima cosa che hanno inserito, quindi la ammo box, veramente comodo per tutte quelle armi che ahimè hanno pochi proiettili dietro, quindi ci si porta dietro la scatola di munizioni quando si finiscono i proiettili senza doverli andare a cercare magari durante gli scontri e di conseguenza si può ricaricare l'arma senza starli a dover andare a cercare sia il corpo a corpo perché magari siano finiti i proiettili o proprio i proiettili per ricaricare l'arma stessa. Parliamo anche dei tre nuovi tratti che hanno inserito, Goal è un tratto molto carino, in pratica ogni volta che si uccide un cacciatore e lo si va a lutare si riguadagnano subito 50 punti ferita, quindi è proprio un tratto per riguadagnare punti ferite istantaneamente. A Voltoio invece è un tratto che consente ai giocatori di lutare i giocatori che sono già stati lutati, quindi se voi arrivate durante uno scontro dove ci sono stati altri player, dove si sono ammazzati e trovati i loro cadaveri potete lutarli di nuovo come se foste voi ad averli uccisi. L'ultimo tratto è Adrenalina che in pratica ripristina immediatamente la resistenza quando la salute è estremamente bassa, quindi se voi state correndo, vi sparano e avete Adrenalina potete correre istantaneamente molto di più perché viene praticamente immediatamente ridata e ricaricata. Molto carino questo tratto, sicuramente a Voltoio e Adrenalina sono due tratti molto carini, Goal non lo reputo un tratto neanche da prendere per il semplice fatto che se sto giocando contro altri player e mi feriscono e io riesco ad ammazzarli, ho tutto il tempo di a andarmi a cercare le cure, b potermi curare io con le mie vitality shot o comunque con il first aid kit. Poi ci sono state parecchie aggiunte, o meglio parecchie rielaborazioni degli AI, quindi generalmente vengono sempre migliorate e cambiate, in questo caso è stato rielaborato il boss, il macellaio, che abbiamo già visto nelle patch precedenti o comunque nella spiegazione delle patch precedenti in cui la velocità di movimento adesso è più bassa, la frequenza degli attacchi e la precisione del suo attacco distante è stata aggiustata, non cade più sulle ginocchia dopo aver subito una grande quantità di danni, ma entra in modalità frenesia, eccetera eccetera. Diciamo che l'hanno reworkato anche perché il macellaio era veramente un boss che entravi due colpi di fucile a pompa o una granata e veniva shottato istantaneamente. È stato sicuramente, anzi è stato, sicuramente è stato perché ce n'è la patch note, aggiunti nuovi audio e sistemati altri audio perché c'erano dei problemi con gli audio quando si venivano lanciate le bombe o comunque fusibili e il resto, adesso fanno una sottospecie di wash, quando vengono lanciati sono in volo e di conseguenza il player dall'altra parte può essere un po' più accorto e sentire quando qualcuno gli sta per lanciare qualcosa. Sono stati inoltre sistemati un pochino le partenze per quanto riguarda invece la parte della partita veloce, quindi non ci sono più il Romero 77 dalla partenza casuale, cioè dal casual della... come cavolo si chiamano, della nuova versione in pratica, mi ricordo mai partita veloce, mi devo ricordare partita veloce scusatemi ma sono sveglio dalle 4 di stamattina e faccio fatica, e niente sono state praticamente risistemate parecchie cose. La modifica secondo me più importante è quella che riguarda l'utilizzo delle lanterne e l'utilizzo dei kit medici che trovate in giro. In questo caso il kit medico deve essere premuto, tener premuto F per poter essere utilizzato, quindi non si può passare accanto e curarsi istantaneamente ma ci si deve fermare e curarsi, ci vogliono circa 3 secondi per farlo e di conseguenza è un punto a sfavore per chi in questo caso può magari combattere durante... nelle zone in cui c'è il carretto delle munizioni e delle cure e di conseguenza continuare a curarsi istantaneamente avendo un vantaggio enorme, in questo caso si deve veramente fermare. L'altra cosa sono le lanterne che adesso se si tirano su, quindi se si prendono in mano, non sono accese, quindi se si lanciano non esplodono, bisogna accenderle e lanciarle, quindi in questo caso c'è un'azione in più da fare che può essere molto pratica e anche però molto buona da usare, perché nel caso precedente se si era magari durante la notte, si prendeva su una lanterna, la lanterna si accendeva istantaneamente e di conseguenza ci si faceva vedere. In questo caso si accende solo ed esclusivamente quando si vuole e finché la sia in mano spenta, anche se ci sparano o la si lancia, non esplode e non si dà fuoco a niente. Ottima cosa anche questa. Che dire, altre varie cose, vabbè ci sono stati centinaia di bug fix, veramente enormi bug fix, questo perché comunque la patch 6.0 ha dovuto rimediare a parecchi errori, che dire, la patch in sé a me non è dispiaciuta per niente, sicuramente c'è il problema dei soldi, veramente un problema enorme di soldi perché li hanno diminuiti tantissimo, aumentando il costo delle cose e praticamente non si guadagna più nulla, cioè io prima ho ucciso 5 player e non ho guadagnato nulla se non 200 dollari, estraendo anche la taglia e quindi mi chiedo io come possa andare avanti un gioco del genere se arrivati a un certo livello magari si hanno pochi dollari e si debba entrare con i free player, con i cacciatori free, con delle armi del cazzo, contro magari persone che invece ne hanno un po' di più e si possono permettere armi e oggetti molto più decenti. Non ne sono molto felice, spero sinceramente che sistemino questa cosa, perché non avere soldi a un certo livello è veramente frustrante, soprattutto se non si può tra le altre prestigiare e quindi tornare indietro. è veramente brutto, dovrebbero veramente diminuire tantissimo il costo delle armi o riaumentare il costo dei soldi, quindi riaumentare il drop di soldi, perché siamo in una posizione in cui il giocatore entra e se muore è plausibile che perda 800-900 dollari che per riguadagnare deve vincere almeno 3 o 4 partite, almeno che non riesca a uccidere tutto il server e a farmare tutto. Quindi vediamo Critic che cosa farà, spero che faccia qualcosa il più presto possibile. Bene, questa era la patch Note 6.0 in grandi linea, spero di esservi stato utile, di aver portato magari qualche argomento, lasciate pure qua sotto i vostri commenti se avete qualcosa da dire su questa patch, noi ci vediamo con il prossimo video, GG a tutti quanti! Grazie a tutti!